sono rientrato domenica ho trovato una squadra che comunque ha le idee chiare perché anche nel giro in d'andata si diceva che noi non avessimo le idee chiare invece non è così perché noi ogni settimana sappiamo cosa ci chiede il mister e cerchiamo di dare sempre il meglio di noi e di esprimere tutto quello che ci chiede siamo squadre che noi dobbiamo cercare di salvarci il prima possibile loro sono una squadra molto fisica e noi arriviamo da un momento negativo quindi noi andremo lì per fare una partita importante cercare di portare a casa i tre punti perché sarà una partita fondamentale visto che le altre dietro stanno cominciando a far punti noi anno dopo anno siamo tolte tantissime soddisfazioni andando in europa league battendo squadre importanti è ovvio che comunque non siamo non dico che non siamo pronti non siamo abituati a questo tipo di partite perché comunque sa solo una realtà che comunque ha fatto sempre bene il campionato sempre stata la salvezza se l'è sempre guadagnata tranquillamente però sappiamo che in questo momento c'è da tirare c'è da dare il meglio di noi c'è da dar per tutto da fare una corsa in più per il compagno da vincere il partite col cuore con cattiveria e quest'anno tocca a noi quest'anno tocca a noi guadagnarci la salvezza prima possibile quindi dovremo dovremo andare più forti degli altri noi abbiamo sempre pensato partita dopo partita senza guardare la classifica poi ovvio che se te non fai punti e le altre fanno punti comincia a guardarti le spalle e ora siamo arrivati ad una fase di campionato dove le altre stanno cominciando a far punti e quindi noi dobbiamo metterci nel nostro metterci nel nostro e cercare di staccarcele e di guadagnarci prima possibile la salvezza perché in questo momento è la cosa principale sappiamo che sicuramente quelle due partite faranno la differenza però la differenza perché abbiamo due scontri diciamo diretti perché stesso andare a giocare lì a verona non sarà facile poi c'è la spalla che ha vinto domenica scorsa e quindi dobbiamo sicuramente preparare la partita al meglio e cercare di portare a casa i tre punti perché non sarà facile ma con la lazio io penso che comunque se noi avessimo fatto gol in quei tre minuti in cui l'arbitro ha fermato il gioco non so poi l'espulsione di berardi ci ha un po tagliato le gambe quel rigore ha segnato comunque io direi di aver visto una squadra che comunque è stata in partita perché anche noi loro alla fine se vai a guardare i dati hanno calciato tre quattro volte in porta è stata una partita strana da quest'anno la serie a così c'è questa var e quindi noi dobbiamo metterci lì e metterci qualcosa in più perché si vede che non è bastato il mister sta lavorando molto sui nostri attaccanti noi noi siamo molto fiduciosi i nostri attaccanti sono sicuro che sono sicuro che i gol arriveranno che i gol li faranno perché abbiamo attaccanti di alta qualità e che sanno finalizzare molto bene li metto sempre a disposizione del mister della squadra dove c'è da dar mano alla squadra io la do molto tranquillamente volentieri spero che possano ripercorrere quello che è un passato il gruppo della primavera dell'anno scorso perché è stata un'emozione incredibile poi siamo entrati per la prima volta nella storia di questo club che non è mai riuscito a vincere una competizione così importante a livello internazionale e da fuori la vedrò con con quella felicità per perché ho giocato quelle determinate partite sono arrivato a vincerla e anche con quella tristezza magari amarezza perché comunque è sempre bello giocare determinate competizioni noi ci alleniamo a dieci minuti da qua che c'è un campo sintetico che ci permette di allenarci quindi prepariamo sempre le partite nei miglior dei modi una squadra come la nostra non deve stare a guardare queste piccole cose non deve stare a guardare il clima il campo e altre determinate cose noi dobbiamo soltanto concentrarci sul lavoro che ci chiede il mister e lavorare il giorno dopo giorno per preparare al meglio la partita della domenica